Il vissuto della malattia è un dato estremamente importante anche perché viene riconosciuto in modo ufficiale su quello che può essere il problema della gravità di malattia. Quindi non ci si basa solo su questo dato oggettivo dell'estensione o delle singole sedi, ma ci si basa anche e soprattutto su quello che è questo vissuto. C'è uno strumento che è un questionario proprio sulla qualità di vita con un punteggio al di sopra del quale si ritiene che la malattia sia degna di nota e necessiti di un trattamento sistemico, indipendentemente da quello che può essere una gravità così estrema di quella che è l'estensione in termini oggettivi e l'interessamento del quadro cutaneo.